Un programma di fine consigliatura. Il Sindaco Speranza a rafforzare la coesione con chi ha votato il bilancio 2013. Il Sindaco chiede la convocazione del Consiglio per decidere le priorità. La convocazione di un'appropriata seduta di Consiglio Comunale per discutere delle attività di fine mandato, delle priorità che l'amministrazione ritiene di dover affrontare nei prossimi mesi. La richiesta al Presidente del Consiglio, Muraga, giunge dal Sindaco Speranza che spiega che in quella sede farò anche le mie valutazioni su come rafforzare la coesione tra i consiglieri che hanno votato il bilancio 2013 e su come sviluppare un dialogo proficuo in tutto il Consiglio Comunale. Speranza ritiene in questo modo di venire incontro anche alle richieste di discussione sulla situazione finanziaria che sono emerse durante l'ultima riunione dell'assise cittadina. Siamo qui. Richieste che erano state avanzate in particolare dai consiglieri Cristiano e Nicola Mastroianni. La Corte dei Conti ha spiegato con chiarezza che la situazione del nostro Comune non era e non è assolutamente da dissesto. Ha ribadito il Sindaco e ha che le decisioni prese dal Consiglio Comunale a dicembre 2013, bilancio 2013, piano triennale di riequilibrio, erano adeguate ad affrontare i problemi finanziari del Comune. Speranza ricorda che ad avvio della Corte dei Conti i problemi non riguardano nella parte relativa alle spese, ad esempio personale, stipendi, indennità, consulenze, lavori pubblici, acquisti eccetera, come spesso si è cercato di far apparire strumentalmente da parte di alcuni ambienti politici, ma le mancate entrate che, come tutti sappiamo, sono dovute al fatto che molti cittadini o non hanno la possibilità di pagare le tasse comunali o decidono deliberatamente di non pagarle, cioè evadere. È del tutto evidente che a questo punto anche il problema delle tariffe IMU e IRPEF del 2013 per Speranza ha scarse importanze perché la Corte dei Conti ha delineato un quadro di stabilità finanziaria. Oggi e potenzialmente in futuro, ritenendo che non sia condizionante la decisione del Consiglio di Stato relativamente al fatto che il Consiglio Comunale avrebbe approvato in ritardo di 48 ore per lo scontro politico acceso e la confusione che all'epoca si erano determinate all'interno del Consiglio, le citate tariffe 2013. Nel caso in cui il Consiglio di Stato non dovesse accogliere il ricorso del Comune, si potrà con serenità decidere di elaborare un piano decennale nel quale minori introiti 2013, spiega il Sindaco, potranno essere recuperati con un'azione pluriennale senza difficoltà per il Comune e senza conseguenze importanti per le tasche dei cittadini. Articolo di Rettura. Poi ancora Politica Comunale. Plauso del Consigliere Mastroianne del Gruppo Misto per il civico consesso proposto dal primo cittadino. Esiste la necessità di avviare un confronto sereno. Le dichiarazioni rese dal Sindaco Speranza relativamente alla convocazione del Consiglio Comunale la prossima settimana con all'ordine del giorno la situazione finanziaria dell'ente e le priorità di fine mandato rappresentano un importante segnale di apertura alle sollecitazioni delle ultime settimane. Così il Consigliere Comunale Mastroianni interviene dopo la richiesta della Speranza a mostrare apertura e interesse alla richiesta di dibattito avanzato in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale dai Consiglieri Mastroianni e Cristiano del Gruppo Misto e sostenuto, molte volte vengono ripetuti le stesse cose, solamente con 5 voti favorevoli e 13 contrari i quali quest'ultimi senza rendersi conto hanno finito per censurare, spiega ancora il Consigliere Mastroianni, la legittima richiesta di un dibattito sulla precaria e preoccupante situazione finanziaria delle casse comunali. Il mio giudizio politico sull'operato degli esecutivi del Sindaco Speranza non si scostano, il generale di stampa ancora rimarca Mastroianni, permangono tutte le perplessità di merito e di inefficacia delle scelte politiche e amministrative, finora poste in essere per la comunità lamettina. Vi è però aggiunge un elemento nuovo che è rappresentato della volontà del Sindaco di riportare i temi di stringente emergenza dell'ente della comunità lamettina in un programma di fine mandato sui quali esiste la necessità di avviare con la tempestività un confronto sereno e trasparente con tutti gli attori politici, sociali, economici e produttivi per ricercare interventi risolutivi per il presente e soprattutto per l'avvenire della città. Giro di cronaca, denunciato dalla Guardia di Finanza un 43 anni nativo di Lamezia, voleva aprirsi un conto corrente postale, ma la carta d'identità è risultata falsa. Con quella carta d'identità poi rivelatesi falsa in quanto intestata a un nome e un cognome inesistenti, R.MM di 43 anni nativo di Lamezia, ma residente a Pizzogalabra, voleva aprirsi un conto corrente postale. Gli è però andata male perché in quel momento all'ufficio postale centrale di via Fabio Filzi, la posta numero 1 di Lamezia, c'erano due finanzieri che il caso voluto si trovassero nel posto giusto al momento giusto per smascherare il 43 anni e quindi denunciarlo. I finanzieri del gruppo di Lamezia hanno bloccato la persona appena citata mentre stava per realizzare una truffa ai danni dell'ufficio postale centrale della città. Tutto iniziato quando si era presentato presso lo sportello postale richiedendo l'apertura di un conto corretto da intestare a se stesso presentando la carta d'identità che fin da subito è apparsa sospetta all'addetto dello sportello il quale ha richiamato l'attenzione dei finanzieri i quali non ci hanno messo molto ad accertare che quel documento carta d'identità si presentava più che sospetto. Poi un'interrogazione dell'avvocato Chirumbolo, consigliere comunale, raccolta rifiuti a rilento negli esercizi commerciali dopo il cambio di gestione. Da un mese a questa parte molti commercianti lamettini riscontrano ridotte insufficiente raccolta settimanale dei rifiuti prodotti nei loro locali commerciali e ciò si sarebbe verificato nell'indomani del trasferimento di gestione di tale importante servizio dalla cooperativa Chirabani alla Mese Multiservizi. Infatti sta avvenendo che i rifiuti organici, l'indifferenziata, come l'ha scritta la carta, e il multimateriale vengono prelevati dalle attività commerciali una sola volta a settimana, così come avviene per le utenze private. Per questi motivi il consigliere e capogruppo di Forza Italia Armando Chirumbolo ha presentato un'interrogazione con la quale chiedo all'amministrazione comunale di intervenire per eliminare tale disservizio e quindi consentire ai commercianti di poter esercitare al meglio e senza ulteriori problemi la loro attività. Perché Chirumbolo, tale situazione diventa insostenibile in quanto non tutti i commercianti hanno la disponibilità economica e logistica di procurarsi un altro locale, magazzino, dove riporre tale rifiuti in attesa che vengano prelevati dal multiservizi. Il caso Trame, ricordate, con Calabria Etica, ne vediamo un po' altri sviluppi, ha vinto l'antimafia di facciata. Furgioele dell'MTL, Ruberto, vittima di una lotta per chi deve avere il primato. Il consigliere Aiello, Speranza, è stato il primo a sdoganare l'esperienza del 2002. Per iniziare Trame, tra tante polemiche, andiamo a vedere. Nell'imminenza dell'avvio della quarta edizione di Trame, il Festival dei Libri sulle Mafie in programma alla Mezzia dal 18 al 12 giugno al 22 giugno, chiedo scusa, non si plagano le polemiche dopo la rescissione dell'accordo con le fondazioni Calabria Etica e Trame. Per Carlo Aiello, consigliere comunale di La Mezzia indipendente, c'è molta ipocresia su quanto sta accadendo intorno a Trame. Molte ambiguità nei distingue. Aiello parla di doppiezza classica del sindaco e dei suoi sodali, che non si comprende perché puntino il dito contro Calabria Etica e il suo presidente, Ruberto, motivando ciò con il suo essere stato coinvolto nell'amministrazione sciolta per infiltrazione mafiosa. Il consigliere comunale insiste su questo punto. Peccato, facciano finta di dimenticare che in giunta e in consiglio comunale tra i banchi del centro-sinistra siedono da molto tempo persone che hanno avuto ruoli apicali nell'amministrazione chiusa per mafia nel 2002 e attacca ancora fustigatori di professione capace di offuscare la specchiata moralità di tante persone per bene pur di trovare loro un posto al sole. E poi il silenzio, rimarca l'ingegnere consigliere comunale Aiello. Degli infangatori di professione su tutto ciò, qualcuno di loro ne potrebbe approfittare in questa interessante sessione di trame per esporre l'argomento, dandoci magari qualche lezione in materia. Verremo a prendere appunti di più altro che gli scatoloni in diretta catodica è il Pere Pepe. Di scatoloni in diretta catodica è il Pere Pepe sullo scampato di Sesto. Aiello parla ancora del silenzio ancora più inquietante di una parte consistente del Partito Democratico della città in nome della governabilità a tutti i costi. È scoccata da tempo l'ora dei tutti a casa ed essi si ostinano a non voler capire, dice il consigliere Aiello. Ancora conclude il consigliere Aiello, si chiede come è possibile allora operare questa distinzione? È forse questione di peso? La verità è, conclude l'ingegnere Aiello, che il primo ad avere sdoganato quell'esperienza amministrativa chiusosi così drammaticamente è stato proprio il sindaco di tutti con le sue sciagurate scelte operate da prima delle ultime elezioni del 2010 e confermate nel tempo. Lo sappia il direttore di Trame che alla Mezzi ha vinto l'antimafia di facciata non quella della responsabilità. Sul caso il Movimento Territorio e Lavoro esprime solidarietà a Pasqualino Ruberto, vittima, dichiara il segretario del Movimento Domenico Furguele di una lotta per chi deve avere il primato dell'antimafia militante, unico argomento se toccato capace di fare andare su tutte le furie il sindaco Speranza. E aggiunge questa spiacevole vicenda ha rafforzato il convincimento che saltano i nervi quando si tocca la oramai nota politica dell'antimafia e nonostante Trame non abbia bisogno di essere difesa da una convenzione con un ente come Calabria Etica probabilmente già impegnato nel promuovere iniziative contro la criminalità, il partito del sindaco e qualche politico fallito sentendone un bisogno irrefrenabile sono intervenuti. Parlando di Trame Furguele parla di un disastro costoso considerato tale soprattutto da chi lo ha sempre sostenuto come il nostro comune, una bolgia di convegni, manifestazioni e incontri itineranti che nulla hanno prodotto per la città ma che tanto hanno dato, c'è un errore di stampa, c'è un gerundio, tanto hanno dato alle carriere di alcuni politici e di qualche prete. Chiude qui Furguele. Ancora della mezza, pagina 31 del quotidiano, oggi sabato 14 giugno, il caso scongiurato alla soppressione della tratta ferroviaria. La mezza Catanzaro-Lito, la regione trova i fondi, quattro corse su ferro e due su gomma. Il collegamento, la mezza Trame Catanzaro. Andiamo avanti. La denuncia, rifiuti ingombranti e materiale edile, discarica a cielo aperto vicino a Scuola Media. Quartiere Capizzaglia, l'associazione denuncia la presenza di una discarica a cielo aperto nei pressi della Scuola Media, comprensivo Gatti, dove la strada di via Amendola e via Donna Mazza è diventata una discarica di rifiuti, calcinacci, materiali a cielo aperto. Chiediamo la bonifica e i controlli da parte del Comune, sottolinea il presidente dell'associazione Oscar Franca, via Amendola è ormai una vera e propria discarica a cielo aperto, quasi un punto di ritrovo per il rifiuto selvaggio, soprattutto per ingombranti e materiale edile smaltito impropriamente. La segnalazione giunge col tanto di foto di calcinacci, mucchi di rifiuti e carcasse di vecchi elettrodomestici. Tra ogni genere di rifiuti rimarca ancora il presidente, ingolobbato spesso da erba alta e sterpaglia sul lato del marciapiede, questo è vero, c'è davvero di tutto. L'ennesima scoraggiante cartolina all'esempio di inciviltà, degrado urbano, denuncia ancora branca. All'istituzione del Comune di Lamezia chiediamo che venga bonificata l'aria dai rifiuti ingombranti qui nella zona di Don Severo Gatti e il curvone che porta prima dei capizzagli, è davvero erba altissima e magari qualcuno si trova davanti. Oltre alla poca visibilità per uscire con le macchine dai vari palazzi, anche per immettersi sulla strada di Viti e Pizzantini, anche il problema di qualche rettile o qualche anche ratto tra i piedi con tutto questo degrado che c'è sui marciapiedi di Viti e Pizzantini. Club Forza Silvio domani, colletto alimentare per la Caritas. Poi c'è un incontro con un ricordo per di Enrico Berlinguer e andiamo a chiudere la pagina di Lamezia Terme, c'è un'altra pagina del Lametino, del quotidiano, sul Lametino parlo come Interland, vediamo un po' se riusciamo a inquadrarlo, è troppo sotto l'inquadratura, andiamo indietro un po'. San Mangodacuino, Caler si pare sull'anno scolastico, riconoscimento agli alunni anche per alcuni dipinti, vasto programma fra rappresentazione teatrale e ballette dell'istituto comprensivo. Curinga, l'apparire della politica spot, Maiello interviene dopo i recenti attacchi della minoranza, il vice sindaco, l'opposizione rinuncia ad un ruolo propositivo. Ancora notizie dal quotidiano per quanto riguarda l'Inter e l'Ametino, convegno un ricordo di Ascioti, il dottore Ascioti, cardiologo deceduto qualche mese fa, aggiornamenti in cardiologia, oggi al Grand Hotel Lamezia alle ore 9 si svolgerà il convegno aggiornamenti in cardiologia, organizzato dalla Unità Operativa Complessa di Cardiologia, UTIC, del Presidio ospedaliero di Lamezia. La giornata è stata fortemente voluta, oltre per la trattazione di tematiche inerenti alla disciplina cardiologica, per ricordare Claudio Ascioti, medico cardiologo, scomparso lo scorso anno, mentre era in servizio in ospedale. Poi Forza Italia incontro con Raffaello Fitto si svolgerà lunedì prossimo alle ore 16 alle 17, il 16 giugno, presso l'Otti Hotel qui di Lamezia, un incontro con Raffaello Fitto dopo il successo elettorale delle elezioni europee e la classe dirigente di Forza Italia regionale e parlamentare. L'occasione si legge in una nota di Forza Italia sarà utile per fare il punto sulla situazione politica a livello regionale e nazionale. Festa della celiegia San Pietro Apostolo, Cortale, la bellezza dell'arte e della pittura di Cefali, Ornella, cresciuta tra le tele e i pennelli dello zio Andrea. Andiamo avanti, andiamo nella pagina sportiva e poi concludiamo questa mezz'oretta di rassegna stampa sul quotidiano della Calabria, stasera gioca l'Italia nel tarda ora, lì saranno sei ore dietro in Brasile, Juventus di spunto quadrato, questo è il mercato sul quotidiano della Calabria, stasera gioca l'Italia, un difficile incontro con l'Inghilterra di Oxon, lo staremo a vedere, la prima partita è sempre da inquadrare con l'emotività sul mondiale, poi pian piano magari si libera di più, staremo a vedere stasera l'Italia che partita farà all'esordio del mondiale. Per la vigor la mezza e i problemi sempre del guido di Polito, per lo stadio il tempo stringe e dice Rettura, maglia a Parma per il rinnovo dei presidi di Rapisarda, Piacenti e Catalano. Ancora non è arrivato il definitivo sì dalla prefettura di Reggio di Calabria. E ancora in via di definizione alla questione dello stadio alternativo di Reggio Calabria, la prefettura di Reggio, ultimo ostacolo da superare è stata già investita ma il tempo stringe, poiché entro il 20 lo stadio alternativo dovrà essere comunicato alla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC, la questione stadio ha rallentato le trattative o comunque i progetti tecnici, quindi ora si è arrivati alla stretta, anche perché il tempo che si è perso ormai comincia ad essere troppo, se non pericoloso, visto che senza lo stadio alternativo la vigor la mezza non potrà iscriversi alla Lega Pro. Di certo non è per responsabilità della società biancoverso, ma soprattutto a causa dei ritardi accumulati per il lavoro al dippolito, comunque iniziati anche se a rilento, viste le procedure burocratiche e tecniche. Del resto la stessa società del Presidente Arpaia è stata lasciata sola anche per il reperimento dello stadio alternativo. L'amministrazione comunale aveva assicurato di interessarsi per lo stadio alternativo, ma finora di concreto nulla. I passaggi e il lavoro che finora sono stati compiuti per lo stadio di Reggio Calabria li ha fatti esclusivamente il Presidente Arpaia. In attesa il direttore sportivo Maglia nelle prossime ore sarà a Parma per definire gli acquisti che vi ho detto prima, per confermare alcuni giocatori e poi ancora il direttore sportivo oltre a che a Parma ha già in agenda altri appuntamenti con società della massima serie, tra cui il Genoa Maglia dovrà anche incontrarsi con Federico Cherubini, ex direttore sportivo del Foligno, attuale uomo mercato dei giovani calciatori della Juventus da destinare alla serie minore. I canali dunque sono aperti per la Vigor che ha l'obiettivo dichiarato di allestire una squadra giovane per la prossima Lega Pro, ma gli elementi di esperienza sono più che necessari, però visto il girone che la Vigor dovrà affrontare, qua non si scherza, arriveranno squadroni al dippolito, dovremo affrontare squadre fortissime, quindi bisogna fare un organico di tutto rispetto, lo sanno i dirigenti. Quindi per lo stadio si aspetta il sì della prefettura di Reggio Calabria e poi si potrà ancora andare avanti con i lavori per finire poi le opere da dare alla Lega. Sfogliamo un attimo il lametino. Vediamo, lo sfoglio anch'io adesso, per me è la prima lettura che faccio, nella foto vediamo nel Consiglio Comunale il procuratore antimafia, il dottore Lombardo che è intervenuto all'ultimo assise del Consiglio, sconfiggere la zona grigia a Lamezia, questo è per quanto riguarda sul lametino, dieci anni schierate a difesa delle legalità, poi l'intervista al comandante dei Carabinieri Vincelli, abbiamo riconsegnato le chiavi alla gente onesta della città di Lamezia, le mani sulla città, dall'abbigliamento di lusso alle pizze gratis, passando tutto ciò che si è scoperto nelle dichiarazioni e nelle indagini della DDA. Andiamo avanti, siamo una nuova famiglia che presto si prenderà tutto Lamezia, questo ancora sulle indagini che si sono svolte e sono state pubblicate sul lametino, quei summit organizzati la sera a casa di un noto mafioso di Lamezia, poi tutti volevano morto uno degli arrestati di questa operazione chimera e ancora via via, tante pagine dedicate all'operazione chimera da parte del lametino. Poi niente altro, solo credo notizie più leggere, vediamo sull'urbanistica alla mezza del 48, vedete questi affreschi che sono in via Garibaldi, molto belli, c'è anche un servizio su questo palazzo Niccoli in via Garibaldi, centro storico sotto il castello normanno dell'ex comune di Nicastro. Poi andiamo a vedere più avanti, parla degli 80 euro di Renzi agli statali, racconti di storia, padre Giuseppe Maria Roberti di Conflenti, il biografo di San Francesco di Paola e l'ordine dei minimi, in un articolo del professore Villella, c'è anche questo, c'è anche la cultura sul lametino e non solo, cronaca di Indrene, come vedete il libro potrebbe essere la traduzione dell'empatia, Lia Pallone, psicologa e scrittrice. Holding aeroportuale, crescita, relazioni complicate, si parla un po' di tutto sul lametino che in edicola, in ricordo del sottotolente Notaro, c'è una piazza pure alla mezza, partì al fronte giovanissimo e fu esempio di comportamento esemplare nella grande guerra. Poi c'è anche Paolo Giura in foto, la calabria onirica di Pina Maione, Mauro, la vedova dell'avvocato Mauro, la vediamo in questo articolo di cultura sul lametino in edicola. E basta, poi Rossi nei calici sorsi di storia, la prima volta in Calabria, un ciclo di degustazioni verticali di vini rossi promosso dall'Ais. E per concludere, il serial killer del lago di Como, un articolo ancora di rubrica sulle ultime pagine del lametino. Concludiamo qua, abbiamo fatto una lettura di oltre mezz'ora di qualche quotidiano lametino e Calabrese è il lametino che viene stampato qui in città. Noi concludiamo e ci rascolteremo alle prossime letture. A voi tutti, buonasera. Grazie.